bello 45 ma sono i bambini si è la porta ragazzi mi ha restito da quarta porta fate voi fate voi guarda il mio bicchiere grazie la cartina c'è la cartina pala pala questo va giugnere no va giugnere Poi! Vai! Vai! Poi! Poi! Penso io! Se potrà... Non lo faccio! 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 Li sta massacrando! Dai muoviti! Li sta massacrando! Sì!